buongiorno a tutti sono federica tononi e sono naturopata mi occupo di medicina alternativa e alcuni anni fa tramite il mio medico curante sono venuto a conoscenza di questa scuola di pensiero del maestro taeri sono stata seguita appunto da questo medico che è tuttora un tutore persiano qui in italia questa scuola mi ha permesso di crescere mi ha permesso di guardarmi dentro mi ha permesso di vedere come sono realmente ma soprattutto mi ha fatto conoscere una cosa molto più grande di noi che l'armonia cosmica l'armonia cosmica la quale noi ci affidiamo per poter essere aiutati quando noi abbiamo bisogno quando noi ci sentiamo stanche abbiamo degli anelli ai quali rivolgerci e che possiamo dichiarare per noi stessi alcuni eccezionalmente possono essere dichiarati anche per gli altri e tutto questo ci aiuta proprio a sentirci più tranquilli a capire che non siamo da soli ma siamo un tutt'uno con qualcosa di molto più grande di noi credo profondamente nel potere divino degli anelli e dove regna la misericordia divina ringrazio il maestro teri per averci dato la possibilità di conoscere questo metodo attraverso il quale abbiamo in mano davvero una capacità molto grande che è quella di affidarci in modo disinteressato e affidare sempre in modo disinteressato noi stessi e le persone che ci sono vicino o anche che non conosciamo al potere divino